L'unica decisione, mi dispiace tantissimo, ma dovrò rinunciare. Rinuncio non perché ho perso l'entusiasmo, non perché ho perso la voglia di combattere, di fare lotte, eccetera, ma io devo rinunciare perché non vedo una comunità presente. Getta la spugna Eginio Pingitore, primo cittadino di scandale e, fino a qualche ora fa, uno dei candidati sindaco alle elezioni comunali del 10 giugno. Dopo le pesanti minacce ricevute negli ultimi giorni da alcuni componenti della sua lista, rinuncia alla candidatura e conclude il mandato amministrativo. Se ti candidi con Pingitore, ti bruciamo la macchina. E' questo il tenore dei messaggi intimidatori ricevuti da alcune donne candidate nella lista e che per obbi motivi hanno rinunciato al progetto. Anche il sindaco non ha retto a questo clima infernale venutosi a creare e ha deciso di mollare. A questo punto rinunerò il gruppo e dirò che non possiamo andare avanti più. La lista non la farò, la faranno gli altri. Spero che degli altri candidati possano ripristinare un po' di pace, un po' di tranquillità, un po' di serenità. Io a questo punto non so che cosa fare. L'unica soluzione è quella, quindi andare avanti mi sembra superfluo. Giuseppe Laratta per la Cineus 24. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.